Al via il giorno di Pasqua, i play-off promozione del campionato nazionale di Serie A2 che vedranno impegnati la BCC Castellana Grotte. Per la formazione allenata da Giuseppe Barbone, appuntamento sul campo della Conadreggio Emilia con prima battuta alle ore 18. Inizierà così dal Palabursi di Rubiera, un percorso che costringerà Castellana a fare a meno del fattore campo, così come determinato dal quinto posto finale nella regular season, la New Mater dovrà affrontare fuori casa tutte le eventuali belle. Come noto, ai play-off 2022 sono iscritte le migliori otto della classifica di Serie A2. Oltre ai già citati confronti tra Reggio Emilia e Castellana Grotte, ci sarà Bergamo-Lago Negro, si giocheranno anche le sfide tra Santa Croce e Brescia e Cuneo-Motta di Divenza. Solo la formazione vincente avrà diritto a disputare la prossima Superlega, sia nei quarti che nelle semifinali. Si passa con due vittorie su tre partite. La BCC Castellana Grotte parteciperà per la quinta volta ai play-off promozione di Serie A2, due le promozioni conquistate nel 2012 battendo in finale Molfetta e nel 2017 battendo in finale Spoleto. Lo scorso anno fu eliminata agli ottavi da Brescia, nel 2010 fu battuta in semifinale da Crema. Coach Barbone era giocatore nella Serie Finale del 2017 contro Spoleto. Al centro, allora in campo, c'era anche Luca Presta, promosso assieme a capitano Alessio Fiore, eppure lo scorso anno con Taranto.